5 minuti di applausi per Paolo Forlani, Luca Pollastri ed Enzo Pontani condannati il 21 giugno 2012 in via definitiva assieme a Monica Segatto per la morte di Federico Aldrovanti. Grand hotel di Rimini, congresso nazionale del sindacato autonomo di polizia, la standing ovation scatta appena si viene a sapere che i tre agenti sono in sala.